La Grande Guerra e il Piccolo Molise. Domani, 22 maggio, si inaugura questa straordinaria ed inedita mostra presso l'Archivio di Stato di Sernia. Ce ne riferisce Antonietta Santilli, direttore dell'Archivio di Stato, Pentro. La mostra La Grande Guerra e il Piccolo Molise attraverso le carte d'archivio rientra nelle manifestazioni del centenario dell'entrata in guerra in Italia ed è organizzata dall'Archivio di Stato di Sernia in collaborazione con la soprintendenza archivistica dell'Abruzzo e del Molise e dell'Archivio Storico del Comune di Sernia. La documentazione utilizzata per la mostra è una rappresentazione degli avvenimenti della guerra e delle sue ricadute sul nostro territorio. Chiaramente, mentre le popolazioni che vivevano al fronte ebbero un coinvolgimento molto diretto, le popolazioni invece che vivevano lontano dalla zona di guerra ebbero anche loro, furono coinvolte dalle trasformazioni che la guerra stessa provocò, trasformazioni di ordine economico, di ordine sociale. Il Comune di Sernia è coinvolto in prima persona nella rimembranza del primo conflitto mondiale attraverso questa interessantissima mostra. Sì, io credo che le istituzioni abbiano un ruolo importante, quello di non far perdere le tracce di quello che è la nostra storia, il nostro passato. Questa guerra è, tra virgolette, importante per far capire quanti sacrifici i nostri nonni, perché è la guerra dei nostri nonni, perché fondamentalmente hanno fatto per avere quello che noi oggi abbiamo, la democrazia, questa nostra nazione Italia che in questi ultimi tempi viene particolarmente bistrattata. La nostra vicinanza in questo momento all'archivio di Stato è voluta e cercata proprio perché nella collaborazione tra le istituzioni possiamo far emergere questi racconti di vita dei nostri antenati, di chi ha sofferto tanto e ha lottato tanto per la nostra libertà.